Fino ad oggi, per informarsi delle normative agevolative ed incentivo, ci si è affidati a pubblicazioni mensili specializzate. Queste pubblicazioni però avevano il grosso difetto e hanno tutto il grosso difetto che il materiale informativo pubblicato viene recapitato al destinatario con un forte ritardo rispetto alle vorversi della normativa. Come ulteriore sistema per informazione abbiamo tutti i portali che sono sostanzialmente delle vetrine commerciali e che hanno lo scopo sostanzialmente di pubblicizzare quelle che sono le attività e i bandi che sono interessanti per le società di consulenza che li propongono. Quindi ci troviamo di fronte a delle banche dati che sono poco approfonditi e professionali e servono esclusivamente per dare visibilità alla società di consulenza. Abbiamo poi alcuni siti che hanno delle banche dati che però non sono mai sempre completamente accessibili e complete e quindi abbiamo dei contenuti che sono accessibili solo a chi conosce la materia e sono di difficile consultazione per le PMI. Un'ulteriore alternativa sono le newsletter con cadenza periodica. Qui naturalmente viene risolta la problematica delle informative mensili, però rimane comunque un problema di timing, nel senso che per quanto la newsletter sia frequente, lo scostamento tra la pubblicazione del bando e l'informativa rimane comunque importante. Con il difetto ulteriore che le newsletter in genere sono degli aggregati di diverse notizie che vengono spediti agli utenti finali, i quali devono poi andare a selezionare quelle che sono le notizie di proprio interesse. In definitiva cos'è che cercano oggi le aziende per tenersi aggiornate nell'ambito delle agevolazioni, vogliono avere a disposizione delle informazioni che siano chiare e semplici da consultare e per questo il nostro portale è impostato con tutte le notizie, con un titolo che sia abbastanza descrittivo, un abstract, quindi un brevissimo riepilogo in 5 o 6 righe che descrive beneficiari e i contorni di applicabilità delle normative e poi una descrizione anche questa sintetica rispetto alla normativa. C'è poi ovviamente la possibilità di andare poi a approfondire di volta in volta la notizia che si vuole andare ad analizzare, il concetto di base è dare meno informazioni e che siano molto molto più specifiche e per questo diciamo che viene un po' cambiata la prospettiva e l'azienda entra nella banca data e si sceglie quali alert, quali notizie ricevere sulla base dei parametri aziendali e dei interessi che l'azienda specifica ha, quindi per territorio, per settore, per dimensione e via dicendo. Altra cosa essenziale è il timing e anche qui le notifiche non arrivano attraverso delle newsletter classiche ma arriva un alert che contiene strettamente l'abstract della norma, quindi il titolo 4-5 righe di descrizione della normativa e poi il rinvio all'eventuale approfondimento sul portale. Per ogni notizia c'è la possibilità di approfondire e di consultare il tecnico che c'è a disposizione per le richieste specifiche su ogni singolo alert, quindi direttamente dalla notizia che arriva nella casella email può essere inoltrato una domanda o un approfondimento sulla specifica normativa segnalata. Diciamo che con questo tipo di servizio si vuole cambiare prospettiva e passare da banca dati a servizio, intendendo che l'azienda accede al nostro portale per recuperare delle informazioni, quindi consulta online la banca dati ed acquista e attraverso questo portale va a profilarsi nella propria area utente in maniera che poi le arrivino esclusivamente le notizie e le notifiche per cui si è profilata. Per riepilogare i contenuti di questo servizio, è un servizio di ricerca online, quindi c'è la possibilità di accedere a una banca dati che contiene più di 1000 agevolazioni attive in tutta Italia, è aggiornata quotidianamente da fonti ufficiali, c'è una selezione di oltre 250 fonti indirette, quindi ulteriori fonti da cui attingere per le informazioni, le informazioni sono precise e puntuali e l'azienda viene informata solo per le agevolazioni ed incentivi disponibili a congure profili, quindi rispetto al profilo che dal proprio account si è selezionato viene filtrato, vengono filtrate solo le notizie adatte, l'intenzione è quella di semplificare e quindi mandare solo le informazioni utili, quindi meno informazioni e più specifiche. L'aggiornamento è in tempo reale, nel senso che l'alert parte non appena la notizia viene carrericata sul portale, c'è l'accesso open data al database, quindi la possibilità di fare le ricerche sul database anche per normative che sono già chiuse e con la possibilità di avere i link alla documentazione ufficiale. Gli alert arrivano non solo per i bandi aperti ma anche per quelli in fase di attivazione in maniera da potersi attivare per tempo e poter sfruttare tutte le occasioni disponibili.